Proprio nel momento in cui il Governo italiano, insieme ad altri, è uno dei paladini della società aperta, del valore degli scambi commerciali, del mercato, dell'apertura al mercato a livello internazionale, il messaggio tuttavia è che chi si batte per la società aperta, chi si batte per l'apertura dei mercati, non è affatto insensibile all'importanza e all'esigenza di proteggere il lavoro, di tutelare il lavoro e di accompagnare con gradualità i percorsi di innovazione che inevitabilmente ci sono e che noi non intendiamo certo contrastare. Ma chi si batte in prima linea su quella frontiera deve anche essere capace di rivendicare politiche di protezione, politiche di tutela che rendano socialmente gestibile l'innovazione e l'apertura per la quale tutti ci battiamo.